Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vorrei dire a una youtuber, a Charlotte M, in punto, di venire a Massa Martana il 3 agosto a Massa Martana in piazza. Se non trovi la piazza, devi, cioè, in un palazzo, al primo piano, il primo piano, e il primo piano a destra, a destra. Allora, te lo chiedo per favore, vieni Charlotte, io ti amo e ti aspetto con il letto matrimoniale, ok? Ti prego Charlotte, ti prego Charlotte, vieni, please. Ciao, ti aspetto nel palazzo, se non trovi la piazza. E dopo domani o domani, mercoledì? No, oggi è o giovedì o giovedì o venerdì. Provieni, ti prego, ok? Ti aspetto, eh?